Si sono svolti questa mattina nella chiesa della frazione Ostigliano i funerali del sindaco di perito Antonello Apolito. Il feretro ha lasciato intorno alle 9.30 l'aula consigliare dove nella tarda serata di lunedì è stata allestita la Camera Ardente. Per tutta la giornata di ieri un flusso continuo di amici, colleghi, conoscenti, amministratori e semplici cittadini hanno reso omaggio al primo cittadino. Apolito aveva 37 anni, si è spento dopo una lunga malattia. Negli ultimi due anni ha lottato con grande coraggio ed alto senso delle istituzioni, rimanendo alla guida della sua comunità con fervore e responsabilità. A vincerlo è stato purtroppo un male incurabile. Lo scorso anno, nonostante problemi di salute, si era ricandidato per il secondo mandato da sindaco, ottenendo un ampio consenso. Una persona per bene, un sindaco attento alle esigenze di tutti i suoi concittadini, così lo ricordano i colleghi amministratori. Le sue condizioni di salute già precari sono peggiorate negli ultimi mesi, portandolo lentamente alla morte. Antonello era un dipendente del Ministero della Difesa, più volte era stato anche in missioni all'estero. Lascia la giovane compagna e un bimbo nato appena 20 giorni fa. Ad annunciare la nascita del suo piccolo era stato lui stesso, con un post pubblicato su Facebook. È nato il piccolo Giovanni, tre chili di amore puro, scriveva, doveva essere il giorno più bello della mia vita e nonostante tutto è riuscito ad esserlo. Grazie Giovanni per avermi regalato il piacere di essere padre, cercherò di ricoprire questo ruolo nel miglior modo possibile. E solo qualche mese fa il sindaco Apolito ai nostri microfoni, con entusiasmo, annunciava grandi progetti per la sua comunità. Vediamo nella scuola il futuro della comunità di Perito, quindi il progetto era strutturato su una fase che era quella della pubblicità dei risultati, ma soprattutto per la sensibilizzazione dell'attività di efficientamento sul territorio. Quindi un primo passo l'abbiamo fatto questa mattina con i bambini che l'ho visto molto preparati, ma soprattutto molto contenti di affrontare questo discorso insieme a noi, insieme ai tecnici che hanno seguito tutta la fase della progettazione fino all'esecuzione e oggi stanno qui con noi a raccontare ai bambini e a raccontare anche alla cittadinanza ciò che è stato fatto e ciò che nel futuro potremo insieme portare avanti sul territorio.